Ed eccoci qua, buongiorno bella gente, buon pomeriggio bella gente Dopo, non so chi di voi ha fatto come me, non so chi di voi si è piazzato due ore sul divano Anzi, due ore e quaranta sul divano a guardarsi Italia-Giappone delle Olimpiadi Io non so quanti di voi siano stati lì a guardare questa partita Ma vi giuro, chi l'ha guardata, ragazzi, chi è stato lì a guardarla Ha visto letteralmente una partita epocale, ragazzi Bella da vedere, adrenalinica, tirata per due ore e quaranta Dove veramente questo è stato l'esempio massimo della pallavolo Io, scusate che silenzio, lo telefono E io vi giuro che in dieci anni, in dieci anni che seguo la pallavolo Anche nei palazzetti e via discorrendo Questo tipo di partite, nove volte su dieci le perdi E le perdi anche male Perché quando dall'altra parte hai una squadra che tira su anche la polvere Ragazzi, nove volte su dieci sta partita si perde E invece no Quattro palle, quattro palle match al terzo set E poi portata a casa al tie break Ah, mamma mia che spettacolo Ailinon, io mi auguro solo una cosa Io mi auguro solo che tu non abbia guardato la partita Non abbia ascoltato la partita in Rai Perché io non so che ci fosse in Rai Ma sicuramente c'era Lucchetta E vi giuro che Lucchetta è inascoltabile È un commentatore letteralmente inaffrontabile Io me lo sono guardato su Discovery Plus Ragazzi, cioè io sono uscito con le lacrime agli occhi da sta partita Saltavo sul divano Detto che... è purtroppo in Rai Allora, allora Prima di cominciare ho da fare un paio di ringraziamenti da ieri sera che non avevamo fatto Quindi ringrazio Il buone vecchio Chris per i 23 mesi Il fratello Pierre, Pierre Carchi per i 41 mesi Jim Bevero Traditore per i 17 E Antonio Knox per i 24 Dopo queste due ore e quaranta di Italia-Giappone Cambiamo layout e facciamoci un Giappone-Italia Eccoci qua Quindi passiamo da Italia-Giappone e andiamo su Giappone-Italia Ok, ok, ok Allora Capitolo 1122 Isatte Toki Isatte Toki è esattamente il termine utilizzato da Joy Boy e poi da Emmett Esattamente nel capitolo 1120 Non mi ricordo mai perché ci ho guardato in traduzione Se era il 1120 o il 1119 Comunque uno dei due Quando... No, non l'ho guardata Silver So che è stata tutta la finale è stata sotto ai 10 secondi e tutti veramente lì sul filo dei millesimi Meraviglioso Ho visto i risultati stamattino, ho visto il... Proprio solo l'ultimi metri E Isatte Toki è praticamente stato utilizzato o nel 1120 o nel 1119 E significa al momento opportuno Quando sarà opportuno Ok Tra l'altro essendo qua scritto Isatte Toki In katakana È chiaro che chi dice queste parole qua è Emmett È il loro bottone E dopo quando vedremo le ultime tavole quando parlano i due Vi faccio proprio vedere la differenza tra i due balloon Perché saranno uno accanto all'altro Scendiamo Tobira è richiesto Cioè la tavola come la richiesta Quindi Provo a imitare Provo a... Sì, provo a imitare E... Uno smoker Il disegno di smoker Fatto da... O disegnato per me O fatto per me Fatto per me Allora I termini sono disegnare per entrambi Quindi un è disegno e l'altro è disegnato Però Mmm... Mmm... Io ho segnato sia disegno che disegnato Ma in italiano non starebbe bene Bisognerebbe mettere tipo Fatto per me Da un ragazzo Anzi fatto per me 22 anni fa Da un ragazzo della prefettura di Aichi Quindi Aichi Kenno Shonen Ed era il disegno Fatto dal Maestro Koei Eurikoshi Per... E... Proprio uscito all'interno di uno soap gallery Questa settimana Il sitozzo C'ha la doppia pagina Quindi Mi divertirò Per fortuna che non è scritto troppo in piccolo Quindi mi divertirò Iniziamo con Le rispost... Con Le reazioni del popolo di Dressrosa Kono Yoga Kaisoko no Mononi Questo... Questo mondo Allora Io ho messo il mondo Anche perché E... Sembra tipo questo mondo E che ne esista un altro In realtà è Il mondo Diventerà proprietà dei pirati Diventerà Qual... Un oggetto dei pirati Quindi proprietà loro Ma te kure Aspetta Nante kono ippanatsu Ippanatsu Da Vegapunk Ma che razza Cioè Ma che razza di dichiarazione è Vegapunk Quel nante koto Nante koto Solitamente viene Che è Qua Dove c'è la freccetta Qui E' proprio microscopico Nante koto È Una Una domanda È un segno di domanda Quasi di stupore Ma cosa diavolo Ma che cosa Quindi Ma che razza di dichiarazione è questa Vegapunk Che cosa vuoi dire Vegapunk Iada Iada Konokunimo Uminishizumano ka Quindi No Ma persino questo paese Konokunimo Cioè addirittura questo paese E affonderà in acqua E affonderà in acqua Nantoka Stekoreme Kaigun Fate qualcosa Nantoka È proprio qualcosa Fate qualcosa Marin Quindi Pirati Invece Laddove La gente comune È letteralmente Terrorizzata I pirati Invece Sono galvanizzati Tra l'altro I tre pirati qua Sono Le Riprendono i disegni Fatti Proprio da Oda Durante Runoni Kenshin Quindi Kenshin Samurai Vagabondo E i tre Dovrebbero essere Il centrale E L'autore di Kenshin Samurai Vagabondo Quello Con i baffi Dovrebbe essere Iroyuki Takei Quello Con la lingua di fuori Dovrebbe essere Oda Per dire Perché erano poi tutti e tre Sotto Il Sotto l'autore di Runoni Kenshin Allora Sekai Chino Tenzaiga Shumeshta Il più grande genio Del mondo Ce n'è dato prova Andiamolo a prendere Andiamo a Berlino Beppe Torini Ikuzo Andiamo a prenderlo E poi c'è il Hitotsunagino Dai Hikoa Arunda Qua Come già vi spiegavano oggi Su Su Instagram E nel corso del tempo Il termine One Piece Ha cambiato E scrittura Ha cambiato Il testo È passato proprio solo dal Katakana One Piece Al Al Furigana One Piece Che cos'è il Furigana? È la lettura Di Kanji Quindi qua Ha Unito praticamente Ha messo il testo Del grande tesoro Che unisce le genti E lo ha trasformato In One Piece Quindi Il One Piece Esiste E continuiamo con le reazioni Dei Pirlati Kaizoku ga Konosekai wo shihaisurunda I pirati Kaizoku wa Quindi i pirati Governeranno Controlleranno Domineranno Shihaisuru Vuol dire proprio Dominare Ottenere il controllo Domineranno Questo mondo Domineranno Il mondo Sono Tamini Sekai wo Omini Shizandandaro È forse Per questo Quindi qua parte Con una domanda retorica È forse Per questo motivo Che il mondo Affonderà in mare Cioè Piuttosto Che darlo in mano Ai pirati Lo faranno affondare Questo stanno dicendo Kakugo Shiro Sekai Seifu Rassegnati Kakugo Kakugo E può essere Tradotto in molti modi E Kakugo Lo vediamo qua Nell'ultimo Balloon Può essere tradotto In molti modi Kakugo Può Voler dire Rassegnati Ma può anche Voler dire Deciditi Fai una scelta Fai una scelta Kakugo È la risolutezza È la volontà Il fatto di Voler portare A termine Qualcosa Quindi Poteva essere Uno Poteva essere L'altro Cioè Deciditi Governo mondiale Ma Secondo me Ci sta molto meglio Come Rassegnati Governo mondiale Cioè Pirati dicono Guardate che sto stronzo Ha semplicemente Detto Che Il mondo Sarà In mano nostra Punto Punto Senza se Senza ma Quindi Governo mondiale Che ci ostacola Chi se ne frega Non ci ostacoleranno più Perché tanto Non possono farlo E andiamo a leggere Quello che dicono Le guardie Naseki kaseru Perché gliel'hai Fatto sentire E l'altra guardie Dice Kangokuju Kangokuju No Dendenmushiga Natterundesu Tomeyoga Naku Cioè Il primo balloon Che è qua I I lumacofoni Dentro Alla prigione Kangokuju Vuol dire All'interno All'interno Della prigione E Hanno parlato Il termine utilizzato È diverso Stanno parlando Non è Il termine utilizzato Non è propriamente Parlare Perché Naku Anzi Naru Naku Natteru Naku No Naru Naru Non viene utilizzato Per Indicare Il parlato Umano Naru Viene utilizzato Per indicare Il verso Di un animale Quindi loro Sapendo Che quello Che ha parlato È un animale Perché il lumacofono È in tutto E per tutto Un animale Loro Stanno dicendo I lumacofoni All'interno Della prigione Stanno facendo Dei versi Però capite Che con Stanno facendo Dei versi Noi Che lo dobbiamo Leggere in italiano Non Cioè Stanno facendo Dei versi Vuole anche Voler dire Che cosa ci capite Da una roba del genere Niente Quindi bisogna Per forza Di cose Adattarlo Traslarlo Dall'animale Che fa il verso Proprio dell'animale Al parlato Perché la gente Sta sentendo Il parlato Di Vegapunk Tomeyō ganaku Tomeyō tosuru Significa Tentare Di fare qualcosa In questo caso Tentare Di fermare Tomeyō ganaku È Cioè Significa Ho provato A fermarli Non sono riuscito Non ci Non riesco A fermarli Non c'è modo Di fermarli E andiamo Coimarin Nante koto Eh Vegapunk Cioè Cosa significa Perché Vegapunk E andiamo A una parte Che non a tutti È piaciuta Cioè Kobi Rufi-san Boku-wa Quindi Rufi-san Io Kaizuku-wa Tei-yu-no-wa Kono-yo Ehm Kono-yo-no Subete-o Te-ni-e-iretamono-no Shugo-des-yo Tsumari One-piece-o Mezasu Te-koto-des-yo Quindi E Kobi gli dice Vuoi diventare Il re dei pirati? Cioè Diventare Di Stai parlando Di Di essere il re dei pirati Stai parlando Del re dei pirati? E Ma non è Questo Il titolo Della persona Che Tiene Tra le proprie mani Tutto il mondo Shugo È Il Un titolo Titolo Nobiliare Un Un titolo Dato dagli altri Quindi Fa Ma Non è un titolo Non è il titolo Di colui Che Tiene in pugno L'intero mondo Tiene tra le sue mani L'intero mondo Tsumari In altre parole One-piece O Mezasu Te-koto-des-yo In altre parole Aspiri a ottenere Cioè Vuoi Si vuoi ottenere Punti a Desideri One-piece Mi stai dicendo Che tu desideri One-piece E adesso Ovviamente C'è Tutto il casino Perché Vegapunk Ha fatto un casino Non ha spiegato niente Ha detto Alla gente Guardate che One-piece È Un pericolo Per tutti Quindi Servito a niente Il suo messaggio Anata Anata no yume wo Soshi Soshi Shinaku cha Allora Anata no yume wo Questo è il complemento oggetto Quindi Il tuo sogno Soshi Soshi Shinaku cha È la contrazione Di Soshi Shinaku Soshi Shinaku te wa Naranai Cioè Soshi Shinakereba Naranai Ossia La forma di Dovere Soshi Shinakereba Naranai Sen Vuol dire Devo Ostacolare Devo Interrompere Devo Fermare Il tuo sogno Ostacolare Mi piaceva di più Per Soshi Mi diceva Devo ostacolare Il tuo sogno Devo Frappormi Tra te E il tuo sogno E andiamo a Baggi E siamo qua Il mio mondo Sarai il mio mondo Imbecilli Bakaio Rodomo Son Namon Noson Jainai Non potete desiderare Una cosa del genere Son Namono Nosonde Wa Inai Nosonde Wa Imasen Cioè Non starete Non starete Desiderando Una cosa del genere Non starete Sperando In una cosa del genere Eh? Baggi Zaccio Quindi Baggi Zaccio Io l'ho sempre trovato Come Capocomico Baggi Perché Zaccio Può essere Sia presidente Ma io l'ho sempre Trovato Molto più interessante Come capocomico E quindi Io l'ho sempre Tradotto come capocomico Gabri Lo vede meglio Come presidente Quindi lo ha sempre Adattato come presidente Scendiamo Oretaci No Sekai Da Come vi ho già detto altre volte Quel da Che è in forma piana Quindi lui sta parlando in maniera molto grezza Ai suoi sottoposti È un non passato Perché i tempi in Giappone Si dividono Al di là dei continuous Sono passato e non passato Cioè E questo da È un non passato Quindi io lo posso Indicare Sia come presente Che come futuro Quindi È il nostro mondo È il nostro mondo Vero Mi suona male Cioè Si sono pirati Ma lo vogliono andare a prendere One Piece Quindi lo guardano Guardano i pirati E Buggy dice Questo sarà il nostro mondo Non trovate Sarà il nostro mondo Vero Quindi vi impegnerete a trovare il tesoro Eh Questo è quello che sta facendo Buggy E la gente piangente Che dice Vaggy Vaggy Zaccio Quindi Capo comico Vaggy Tanto la gente Gli calma il nome tutte le volte Gigoku non so come Adè Tsuiteite Cosè Ti seguiremo Te Verremo con te Portaci con te Fino al fondo dell'inferno Andremo Insieme Fino al fondo dell'inferno E qua E qua Il coccodrillo Come fa Il coccodrillo fa Suare Cioè Siediti Vi faccio notare una cosa Vi faccio notare una cosa Se ci riesco Se ci riesco No No Allora Lo z Eh non ci si riesce Non ci si riesce Adesso vediamo se facendo una roba così No Non ci riesco Niente Peccato Peccato Perché volevo farvi vedere una cosa secondo me molto interessante di questo capitolo Cioè Allora scusate che riduco il tutto qua Cioè Il fatto che Suare Che è questo kanji qua È lo stesso kanji di za Di zaccio Sono sulla stessa riga Sulla stessa riga E za E suaru Vogliono letteralmente dire la stessa cosa Uno è il verbo Ciao a te Uno è il verbo L'altro è il nome Il sostantivo E za Vuol dire Posizione Ma anche sedia Quindi Quando gli dice Suare Gli sta dicendo di sedersi Ma Zaccio Lo za di zaccio Non significa La persona che sta seduta Cioè il capo che sta seduto Ma Indica il ruolo Grande gabri che mi hai fatto un raidone Ciao alex E Qua Za Indica da una parte Una posizione Un ruolo Quindi zaccio Indica proprio una posizione Un ruolo Dall'altra Indica proprio Una posizione A sedere Un post Una Un'azione da fare Quindi uno indica Il ruolo di Capo Di boss L'altro indica L'azione di Poggiare le tue chiappe Sulla Sulla sedia E la risposta di buggy è Desione Come dire Eh Va bene Ok E andiamo A Katarina Devon Katarina Devon Con Do So Do Tici Ima Corros Temo Ike Do Quindi Cosa facciamo Tici Cosa ne pensi Tici Ciao Deidara Cosa ne pensi Tici Lo potrei Ammazzare All'istante No Cosa ne pensi Lo potrei Cioè A me va bene A me va bene Ammazzarlo Seduta Stante Però E Tici Parte Karibu Tici Tici Sama Kanarazu Ya Anta O Yorokobas Eru Jouhoda Quindi Tici Sama Sono Certamente Kanarazu Ya Kanarazu Vuol dire Certo E Informazioni Che ti renderanno Felici Che ti renderanno Felice Oppure Lo possiamo mettere Con Sono Informazioni O Informazioni Che ti renderanno Sicuramente Felice Si possono Utilizzare In tutte Le due Le maniere Quindi O Sono Informazioni Che ti renderanno Sicuramente Felice O O Informazioni Che ti renderanno Sicuramente Felice Si possono Significare Entrambi E Tici Risponde Con Tzurete Koi Portatemelo Qua Portatelo Con me Portatelo Con voi Quindi Portatevelo Dietro Koi Vuol dire Venire Tzurete Vuol dire Portare Quindi Tzurete Koi Vuol dire Venite da me Portandovi il sacco Di patate Portandovelo Con voi Kidaio Koenakatará Kesuzo Gitai O Koe Vuol dire Superare Le aspettative Quindi dice Beh Nel caso Se non superassero Le aspettative Sarai eliminato Lo sai E torniamo A Vegapanchione Sorega Shinjitsu Joyoboyua Quindi Questa è la verità Un po' di Zzzzz Interferenze E Joyboy Kareno Zzzzz Allora Quindi continuare Ad essere Come qua sopra Zzzzz Sono proprio Le interferenze Dovute al Movimento Del robottone Che viene Colpito Sempre da Da Igorosei Vola E il lumacofono Che ci sta dentro Viene sballottato Qua e là Ogni tanto Perde la comunicazione Tezzenokyojin Quindi Gigante di ferro E poi vediamo Una cosa Allora Qua Ve la devo spiegare A modo Perché Ho visto In giro E ho sentito In giro Vi giuro Delle Vaccate Di proporzioni Bibliche Proprio Legati A Questo Balloon Aspettate Che faccio Una roba Perché Proprio Legate A Questo Balloon Qua Cioè Questo Si va Ad unire A questo E si va A unire A questo Uno dice Eh ma Questo qua È Ciao Baby Crondor Allora Questo Balloon Qua Sembra La continuazione Del balloon Di Vegapunk Perché Ci sono I punti I Trattini Che vanno Nelle quattro Direzioni Mentre Questo Sembra Una roba Diversa Perché Ha una Forma Diversa Banalmente La questione È questa Qua C'è il messaggio È regolare Ci sono I quattro Braccetti Poi Quando Invece Partono Le interferenze Ci sono Questi Balloon Con I bordi Irregolari E lì Parte Il Ok Quindi E Per Capirci Qua È tutto In catacana G G G T T T B Anzi Bu Che più Più che altro Sembra più Bu Come funziona Se vedete Questo Kareno Kareno Scendo un attimo Kareno È In iragana Perché il No è in iragana E il Care è in Kanji Mentre Tutte le Interferenze Sono in catacana Quindi Per forza Di cose Questo G G G Questo G G Non può Essere una Continuazione Del messaggio Di Vegapunk È L'onomatopea Dell'umacofono Che sta Per esplodere Cioè Prima era Z Perché era L'interferenza Della comunicazione Adesso Questo GG È tipo G G G G G G G E poi Si sente Z Z È come se Ci fossero Che non è Z Z Cioè Tipo delle scariche Elettrostatiche Delle trasmissioni radio Questo è Z Z Ed è come se Saltassero i fusibili Saltassero i circuiti È Una Una botta di tensione All'interno di un circuito Elettrico E poi Boom Quindi c'è proprio il Sistema che Dalla botta Si è sentito I I I Z Z Pfff Cioè Proprio questo suono qua Cioè Il lumacofono Che inizia a fare fatica Iniziano a saltare i fusibili E Boom E esplode Quindi questa Non è la persecuzione Del messaggio di Vegapunk Sono le onomatopee Dell'esplosione Dell'umacofono C'è chi C'è chi Ci ha letto La prosecuzione Del messaggio di Vegapunk Va bene Andiamo avanti In questa pagina Mata Uma gigiga Ancora quel vecchio cavallo Non toccashtè Zoro Fai qualcosa Zoro E andiamo Su Il robottone Perché il robottone Torna a parlare E come sempre Parla In katakana Sumanai Joyboy Perdonami Joyboy Sumanai È La versione Contratta Di Sumimasen Quello che viene Utilizzato Per la maggiore Per chiedere Scusa a qualcuno Quindi Sumanai Joyboy Scusami Joyboy Poi vabbè Qua che Rufi lo guarda E dice Kyodai Robo Quindi Robo gigante Qua le nomatopee Che fanno Gigi E vabbè Qua sono le fiamme Che stanno andando Ayamari Takatta Ayamaru Ayamaru Vuol dire Chiedere scusa Chiedere perdono Quindi Lui lo sta guardando E gli dice Ayamari Takatta Cioè Volevo chiederti scusa Ayamaru E' il verbo Ayamari Tai E' la trasformazione in Voglio fare qualcosa Voglio chiederti scusa Ayamari Si toglie la i E si mette il katta Ayamari Takatta E' la trasformazione del verbo Al passato Quindi è Volevo chiederti scusa Volevo chiederti scusa Volevo chiederti scusa Vuol dire Non era possibile che tu fossi vivo Non era logico Non aveva senso che tu fossi vivo E Rufi che ancora non capisce Mi stai confondendo con qualcun altro? Con chi mi stai confondendo? Mi stai confondendo con qualcuno? Ma Ve li ho messi tutti e tre i balloon Che sono uno, due e tre Il primo Demo Tuttavia Soccuri de Natsukashk te Soccuri de Soccuri vuol dire Essere simili, assomigliarsi E Non tanto essere uguali Adesso ve lo vado a recuperare sul dizionario Il soccuri Perché soccuri è uno di quei classici termini Che hanno mille significati diversi Soccuri può significare Tutto E non è così Sono mamà Cioè è rimasto tale e quale Ma non È rimasto tale e quale Nel senso che uno è uguale all'altro Vuol dire che Se io appoggio il mio oggetto qua E lo vado a riprendere fra due minuti Ed è ancora qua Quell'oggetto che è in quella posizione Non si è spostato Si Per dire che è rimasto lì Si dice Sono mamà Cioè in questo caso è il soccuri Cioè Non si è mosso È rimasto lì come lo avevo piazzato E quindi Non è questo il caso C'è un altro caso Che significa Assomigliare Essere tale e quale E Avere tipo lo stesso viso Una cosa del genere Ed è questo il caso Cioè Qua abbiamo Emmet Che gli dice E Siete simili Siete due gocce d'acqua E A causa della nostalgia Qua c'è una cosa E Essendo che sono Due aggettivi Soccuri funziona come un aggettivo inna E Mentre Natsukashi Natsukashi è un aggettivo inni Per poter mettere Questi due aggettivi Uno di fianco all'altro Anche se poi Non vengono utilizzati Non vengono tradotti come aggettivi Per fare in modo che ci sia La La somma di caratteristiche Il primo Che in questo caso Un aggettivo inna Aggiunge De Alla fine Del Della parola Infatti invece che essere Soccuri Da Cioè Siete tali o quali Siete simili Ok Dice Soccuri De Perché Soccuri De Perché quel De Indica che Dopo il Soccuri C'è un'altra caratteristica E dice Natsukashikte Cioè A causa della nostalgia E proprio per via Della nostalgia Yomigaerunda Sono Ritornato in vita Yomigaeru Vuol dire Riprendersi E Ritornare in vita Rimettersi in sesto Significa questo Contando che lui Era Completamente spento Perché le batterie sono andate Lui Cioè Rufi È simile Al Joy Boy Sono molto simili E E E Met ha sentito i tamburi Ha sentito una certa E Nostalgia Ha sentito l'energia dei tamburi Della liberazione Si è ricaricato Si è ripreso Anohino Kimochi ga Sumonai Joy Boy Quel giorno Le mie emozioni Cioè E Quindi Andiamo indietro Quel giorno Le mie emozioni Quindi vuol dire Che lui Si è fatto prendere Dalle emozioni E Non ha fatto Quello che doveva fare E Perdonami Joy Boy Cioè Gli sta dicendo Perdonami Per le emozioni Che ho provato Quel giorno Per Quello che Sono stato In quel giorno Per le emozioni Per il me stesso Che sono stato In quel giorno Omae o Oni Dekinakute E poi si ferma Perché viene interrotto Dalla battuta di Rufi Dice Omae o E quindi Te Te però come complemento oggetto Oni Dekinakute Cioè Perdonami Per non averti Fatto diventare Re Per non aver fatto diventare Te Re Quindi Il te si può Si può tagliare tranquillamente Per non averti fatto diventare Re E infatti I giganti Interrompono un attimo E Rufi risponde O Quindi Re Perché lui ancora Convinto un po' Di avere tipo Il fantasma di Joy Boy Davanti Mentre i giganti Vedono il vermone E dicono O Mimisu No Bakemono Mimizu No Bakemono Ciao Darwin Murida Funega Shizumu Quindi Ah Il mostro verme È inutile Murida Affonderà la nave E Rufi che dice Oh Re E qui Emmet Si sveglia davvero Perché ha capito Che davanti Non ha Joy Boy Ma ha un altro Similare E gli dice Omae No mai wa Dovrebbe essere Omae Non ha mai wa Ma si vede che è Sofferente Sta combattendo Gli manca un pezzo E quindi la risposta è Omae Namae wa Qual è il tuo nome? E arriviamo con la battuta di Rufi Ore wa Monchi di Rufi Kaizokuoni Naruo Tokoda Cioè sono Monchi di Rufi E sono colui Che diventerà Il re dei pirati Importante Emmet Qua Fa caso Solo ed esclusivamente A Rufi Per la Di Non ad altro La Di Chiuso Di Ne Rufi Senti Rufi Aoshoku La tonalità del re conquistatore Arigato Natsugashiris muo Kikasete Kikasete Kurete Quindi gli sta dicendo Grazie Grazie per avermi Fatto sentire Un Un ritmo nostalgico Un ritmo di cui avevo nostalgia Omae wa Shinanaide Omae wa Shinasenai Omae wa Shinanaide È Per favore Non morire Ti prego Non morire E poi la risposta è Io non ti lascerò morire Io non permetterò Che tu muoia C'è una cosa Che io andrei a Collegare Fortissimamente Al Alla faccenda del viaggio del tempo Di Di Rufi La teoria dei viaggi nel tempo Cosa ci collegherei? Allora Noi Per avere un minimo di collegamento Dovremmo vedere Come Come verrà fatta Questa tavola Nella color ufficiale Perché vi dico questo? Perché Guardando le tavole Della color Nel volume 100 101 E 102 Usciti proprio in questi giorni Lo scorso weekend Ogni utilizzatore Di Achi Del re Ha Esattamente Un modo Diverso E un colore Diverso Dell'Achi Ve la spiego Questi fulmini qua Sono neri Per tutti Ma i contorni Cambiano Ad esempio Quando Rufi Attacca utilizzando L'Achi del re Attaccando Kaido I fulmini Sono neri Con le linee rosse Quando Zoro Combatte Utilizzando La Come si chiama La spada Non mi viene mica il nome Comunque La La spada Di Oden Finchè lui Non la controlla E Il suo braccio È avvolto Da nuvole Violace E anche La Emma Grazie Annunzio La Emma Il braccio Di Zoro È avvolto Da nuvole Violace E Anche Gli stessi Fulmini Di Achi Che escono Dalla spada Sono Fulmini Neri Contornati In Viola Lilla Per intenderci Ok Quando Poi Quindi Non era Suo Achi Era l'Achi Di Oden In questo caso Quando Lui ottiene Il controllo Della spada Inizia ad uscire Nuvole Verdi Invece che Nuvole Viola E la spada Fa Crea Dei fulmini Neri E verdi Proprio come Verdi Sono nuvole Di fumo Fate uscire Dall'Emma Durante il combattimento Questo per farvi capire Quindi Poi non vuol dire Niente Però Se questa scena Con questo Achi qua Nella versione Color Quest'Achi qua Ha il colore Rosso Come contorno E' il colore Distintivo Di Rufy Quindi Potremmo Trovarci davanti A una merdona Come vi dicevo Anche in altri casi Scendiamo Perché qua Partiamo con Le urla E Dol Che dice Achi Con Achi Ma questo Achi Così Un Achi Così potente E Tai Dare No Di Chi diavolo E E E qua Abbiamo Il momento In cui La bomba D'Achi Rimanda Indietro Qua Tre dei Cinque Vecchi Uno Era già volato A casa Perché doveva Vedere la partita Si riformano Si riforma Il pentacolo Poi C'è una cosa Che mi ha fatto Ridarissimo Vi spiego Il cosa Se noi guardiamo Questa tavola Dove Dove c'è Il ritorno Del Grazie zio giù Grazie per i 29 mesi Se vediamo Questa tavola qua Dove c'è Il fumo Che esce Dal pentacolo E vediamo Tre figure Sullo sfondo Sembra anche qua Quasi Che ci sia La carcassa Di uno scheletro Gigante Che si sia Accasciato Come dire Abbiamo Non si giuro Che è il bacozzo Quindi è l'unico Legato ai Teschi Agli scheletri Che dalla cosa È collassato Per terra E si sta Ritrasformando In umano Non sensatissimo Perché già qua Si sta Trasformando Si è trasformato In umano Però Non si sa mai Ad ogni modo Qua c'è Uno scheletro Eh Dragonim È problematico Perché dipende Tutto Da chi Da chi è Joy Boy Perché se Realmente È Rufy E questo Haki potrebbe Essere nero Con le righe rosse Potrebbe Non è detto Ma potrebbe Purtroppo Ahimè 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 Io spero di no Magari dorato Cioè se fossero Se fossero Di Joy Boy E quel Joy Boy Non fosse Rufy Sarebbe bellissimo Se questa Ondata di Haki Fosse un'ondata di Haki Dorata Fiammeggiante Con un colore Proprio vicino O all'oro O Alle All'arancione Più Più tendente Al giallo Che non tendente Al rosso E poi Scendiamo E andiamo Nella tavola Dove Uno si tiene Stretto il mobilio Perché Mars Sta seduto sul divano Prima che glielo portino via Gli altri due Sono Gli altri tre Sono leggermente Abbacchiati Ma non sono loro Ad ansimare Chi ansima Lo vediamo Qua È Im Che caccia Un urlo Alla Richard Benson E poi Quando lo chiamano Gli dicono Im sama Perché lo vedono Inginocchiarsi Urlando E lui Inizia a pensare A dire Joy Boy E non ci ho guardato Quelle di Gold Roger Non lo so Quindi Lui Dice Im sama Dice Scusate Joy Boy Ok Andiamo All'altra pagina Che è letteralmente La penultima Perché l'ultima Doppia pagina È quella Con Joy Boy Qua urlano Atterrano E Rufy Che li guarda E gli dice Omaira Bugideio Katta Voi Cioè Voi Meno male Che siete salvi Qua sono i giganti Ah no Qua i nami Kaibutsu Tachi Ma I mostri Non capisco Sono spariti Non ha senso Sono spariti E qua Le voci Della Della ragione Do yukota Do yukoto da Cioè Cosa significa Roboto ga aki Il roboa Laki Akide Nase Hito ga Kieru Perché con l'aki Sono sparite Delle persone Quindi vuol dire Che normalmente L'aki Non è un potere Così tanto Offensivo Da eliminare Persone Yukata Bugio Rirareta O meglio Rirareta Perché qua Eusop Che piange Che ziga E dicono Ce l'abbiamo fatta Siamo precipitati Sani e salvi Ho messo precipitati Invece che caduti Perché mi piaceva di più Riru Vuol dire Scendere Ok E dove Invece Ochiru Vuol dire cadere Ma il kanji Lo stesso E Qua era Riru Scendere Però Qua Riru Mi sembrava Troppo Troppo Soft Siamo scesi Sani e salvi Sembra che stiamo Scendendo una scala In realtà Questi si sono buttati Da una nuvola Sopraelevata Quindi era giusto Che dicesse Siamo precipitati Sani e salvi Poi beh Nami san Bujika Nami san Stai bene Ma Nami san Sei ferita E Nami che risponde Tai gioco Da che do Atlas To Edizonga Quindi Ce l'abbiamo fatta Siamo tutti a posto Non c'è nessun problema Però Atlas Edizonga Sì ma Adesso non si torna indietro E abbiamo Il vegliardo Che va Al cospetto Di Emmet Sarò curioso La prossima settimana Di vedere Cosa farà Realmente Saturn Se Boh Lo aspetta Se rompe il cazzo Se fa qualcosa Lo scopriremo Se lo smantella Ica Emetto Isatte Tokida Isatte Toki Allora Queste tre battute Le abbiamo già sentite Ica Ascolta Emmet Isatte Toki Quando sarà il momento Isatte Toki Quando sarà il momento Capite come Stesso testo Punteggiatura Diversa E intonazione Diversa Cambia completamente Il senso C'è uno Ti sta dicendo Guarda che Ti do questo potere Quando ti serve Usalo E dice Ma quando mi serve E andiamo avanti Allora Musubu Ve lo metto Allora Il termine Che qua Mette coi tre puntini È il termine Di Legare Cioè E si usa Per le scarpe Si usa per un nodo Normale Per un cappio Ok E qua dice Legherò Legherò Il mio Aki Di rango Più potente Di livello Più potente Perché il Kyu Indica il livello Il grado Mi sta dicendo Qua Ti leggo L'aki più potente Che posso darti Ciao Gino Zutto E 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 No 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 O O Mai No Ino Ciga Abunai Toki Mamoritai Dare Kano Ino Ciga Abunai Toki Quindi Quando Il tuo La tua vita Sarà in pericolo E poi I puntini Sospensione Quando La vita Di qualcuno Che vuoi Proteggere Sarà in pericolo So regà Isatte Toki Da Quel momento Sarà il momento Necessario Però Col fatto che qua c'è Isatte Toki Io ho dovuto Riadattare la frase Per fare sì che L'Isatte Toki Utilizzato qua Avesse la stessa identica Dicitura La stessa identica Traduzione Anche dei balun Precedenti Quindi Ed è anche dei balun Dei due capitoli Precedenti Cioè Quando sarà Necessario E quindi io a quel punto Ho dovuto mettere In quel momento Capirai Quando sarà Necessario Ok Musubime Musubime O Hodoke Sciogli il nodo Musubime Vuol dire nodo Hodoku Vuol dire sciogliere Sciogli il nodo Isatte Toki Omega Tasukeruku Tasukete Kurete Kureru Cioè Quando sarà Necessario Tu verrai Ad aiutarmi Soda Kako kara Ore ga Omae wo Tasukeru Itzu da te Sodaro Quindi la risposta È Certo Proprio così E Verrò ad aiutarti Dal passato Quando accadrà Itzu da te Sodaro Quando accadrà Cosa farai? Cosa hai intenzione di fare? E... Qua Ureshi Arigato Cioè Emmett non lo sta cagando pari Oh sono felice Grazie Perché gli ha fatto un regalo Sono felice Grazie Se sarà così So Starà Anche se sarai morto Oh my Quindi anche se sarai morto Mi sembrerà di averti accanto Mi sembrerà di averti vicino a me Oh ioi Zutto Saki no nashidaro Allora Zutto Indica Un lasso di tempo Continuato Quindi Zutto Quando io ero in Giappone E volevano indicarmi un tempo continuato E si intendeva Tutta la durata del tempo Mi facevano questo gesto Zutto Per indicare che È Tutto quello che sta dentro A Questo lasso temporale Tutto quello che è qua in mezzo Viene indicato come Zutto Zutto Che è Tutto In pratica Continuamente E quindi dice E poi c'è Saki no nashi Che vuol dire Qualcosa che avverrà nel futuro Cioè qualcosa che non è ancora successo E avverrà nel futuro E Giovegli dice Beh Sarà qualcosa che accadrà nel futuro Non trovi? E qua Io ho Trovato Fatica Nel riuscire a tradurre in maniera Comprensibile Grazie Madarancio per il primo prime Grazie mille vecchio cuore Io ho fatto fatica a tradurre In maniera Credibile Zutto Mantenendo il senso di continuità Perché questa cosa? Perché Nella frase Che dice Dov'è? Nella frase che dice Joy Boy Dice che questo è Un Un discorso Da lì in avanti Ok? Ok? Quindi perché Sarà legato a tutto il tempo Finché non decideranno di fermarlo Ma è Da lì in avanti Per un sacco di tempo Lo stesso zutto Utilizzato Da Da Emet È uno zutto Di durata di tempo Cioè Tempo sarà molto lungo Io sarò ancora vivo E per questa durata di tempo Succederà qualcosa E Zutto Samishikunaikana Fufufufu Qua Questo Qua io ho dovuto Per forza di cose adattare Perché non riuscivo a trovare Un termine Che potesse essere ripetuto Varie volte E che Si amalgamasse Bene Con la struttura Della frase in italiano E quindi ho deciso Per adattamento Di scenderli Quindi E Da una parte Mentre parla Joy Boy Diventerà qualcosa Tipo Lontano Lontano Mentre In questo momento È Per tutto questo tempo Perché? Perché è Tutto quello Che c'è A livello temporale O a livello Spaziale Tra un inizio E una fine Quello È zutto Ok? E quindi dice Per tutto questo tempo Per tutta questa durata Chissà Chissà Però visto che c'è Ce l'abbiamo qua Andiamo a vedere Tsuyoku Allora Tsuyoku Tsiso Allora Il termine La frase che viene detta Dall'editor È Dormono insieme O dormiamo insieme E Cioè dorme Dorme Con il ricordo Cioè dorme insieme Con il ricordo In questo senso Cioè Lui In questo momento Si è Addormentato Ricordandosi Proprio Del suo compagno Ricordandosi Di Joy Boy Quindi Quindi qua L'editor dice Tiriamo giù Serranda Che Emmet Si è spento Quindi Il fumetto Ci dice Che L'editor Ci dice Poi da prendere sempre Con le pinze L'editor Che Emmet Si è spento E tanti saluti Chiuso Questo è quello Che ci dice il capitolo Un capitolo anche Particolarmente breve Nonostante le 17 pagine Non ha lunghi spiegoni Non ha E Balloon Particolarmente Prolissi Non ha balloon Particolarmente Difficili Quindi No Si è spento Perché è finita la batteria Secondo me Zio Giù Mica di vecchiaia Si è spenta la batteria Tutto lì Rufi è andato via Non c'è più la carica Del dondo Totto Dondo Totto Dondo Totto E chiuso Cioè L'han caricato Poi Basta Quindi Quindi Direi che con questo Con questa lettura Cambio Layout PPP QA Direi che con questa lettura Io vi posso salutare Vi ringrazio di avermi fatto compagnia Grazie a Draugnim Per i 18 mesi E Io vi saluto E Vi Vi lascio Con un buon pomeriggio E come sempre Ragazzi Se non avete visto La pallavolo Male Perché è stata una partita Letteralmente Fuori di testa Ci vediamo Domani sera Alle 21 Con La lettura Del volume 20 Di Bleach Sono qua che sto Attendendo Tantissimo La serata Di domani Proprio per come Si era chiuso Il volume 19 Di Bleach La scorsa settimana A domani Ragazzi Ciao Ah Domani pomeriggio Esce il video Su Batman Cave Crusader Su segnali di fumetti E Segnali di fumetto Mentre Giovedì Esce il secondo video Su Deadpool e Wolverine Che Dovevo ancora Registrarlo E' venuto Un video Un pelo lunghino Perché Il video su Deadpool e Wolverine E Mi è durato Praticamente 30 minuti Il video Sulle Sulle chicche narrative Sul Come si è arrivati A livello di produzione A questo punto Ci ho messo 36 minuti A registrarlo Con una scaletta Sotto Mandando a braccio Quindi E sono convinto Che per capire Per guardare Quel film Certe cose Bisogna saperle Quindi Vi racconterò Quelle che sono Quelle due o tre Chicche Per 35 minuti Cioè la produzione Di Quei film Che poi si sono andati A incastrare In Deadpool e Wolverine Detto questo Io vi saluto Ci vediamo domani Ciao Belli